Strana domenica per la Lucchese che, mentre le altre squadre sono scese in campo, è rimasta a guardare, rinviata la partita con la Juventus Next Generation. Per quanto riguarda il mercato, la trattativa per riportare Diego Fabbrini in rosso-nero è ancora in piedi, come ha confermato l'amministratore delegato Reilo Faso venerdì in conferenza stampa. Ma il mercato degli svincolati potrebbe offrire anche altre occasioni. Una di queste è il 28enne laterale Federico Mattiello, lo scorso anno in Olanda al Go Ahead Eagles, con una lunga carriera alle spalle. Mattiello è partito proprio dal settore giovanile della Lucchese, prima di approdare la Juventus nella stagione 12-13. Una carriera costellata da tanti infortuni, ma anche brillante, gravissimo quello ai tempi del Chievo Verona dopo uno scontro con Rajan Angolan. Intanto, come dicevamo, dopo quattro giorni di pause e di meritato riposo, la Lucchese tornerà al lavoro da lunedì per preparare al meglio l'attesa super sfida di domenica prossima, ore 18.30 al Porta Elisa, contro il fortissimo Pescara di Zednek Zeman.